Il Dio Mila e milla anni a Rita, Non ti è passato ai moti, c'è stata una montagna che si chiamava solo. Quando ero un mese che è mattina, non posso andare a cucina e prendo i dati entro, ma sicuro un ragù tale e quale ha lavorato a caurare. A Napoli si fanno una uva e non so che la montagna lo ha. Si muro così ma no, da i lai a stè. Si muro così ma no, da che va bene. Da che fate va, e scettate. E poi dico, una volta evacuate, ma ci andremo ad arricchire. Sant'Avastasia dovrebbe andare in Abruzza. E torna annunziata in Liguria. Danget! Bella cia mia mia o cia piappa piappa via quiata. Quanto febbraное pasate fa cacciare con un cuoco. Truca la manpara la cia cia piappa e sanora per te li. Piau mia o cia piappa piappa.. E' come va se vant'ora, a dove sto male, la sto bene, dove subito fa paura e a che tranesca torna che scorra l'embriaca o mostra la lava, uno spirito divino che ci metta a mano sotto. Sarè, t'a niente già veda. Cala l'espiro, cumbaro la luce, scioglio l'usalia, fatta la croce, chiudi la porta, questa è Resina, a terra ristretta, Santa Anastasia, se è vera o è fantasia, non è necessaria la mia, se è un punto di affasunare, chiudi la luce, e va. Grazie a tutti.